Il sogno dell'Atalanta di passare il turno con due giornate in anticipo finisce a pochi secondi dalla partita quando l'Apollo Limassol, che non ha mai mollato, porta a casa il pareggio. Cosa dire una partita oggettivamente brutta, dove l'Atalanta non riesce a impostare il gioco nonostante gli avversari non creino grandi problemi. Atalanta poi passa in vantaggio per un rigore abbastanza dubbio, anche se nella mia opinione per il metodo di arbitraggio che ha usato l'arbitro è un rigore che ci sta, cioè l'intervento è oggettivamente scomposto, non fa male, ma è un intervento comunque fuori dalle regole. Quindi la chiamata secondo me può essere tollerata nonostante ci sia una manica piuttosto larga. Per tutta la partita l'Atalanta teme un avversario che di fatti non fa niente per farsi temere, tant'è vero che gli esterni, che dovevano un po' far sopperire la mancanza di Papu Gomez, non fanno un buon lavoro. Con Kurtic, che ripiega quasi sempre a fare il difensore, con i centrocampisti che si abbassano tantissimo, e questa cosa sta diventando veramente un problema, perché l'Atalanta ha giocato per un gran pezzo della partita bassissima, veramente bassissima a un certo punto, si vedevano chiaramente linee difensive di sei uomini, che non avevano assolutamente ragione di esistere, perché ripeto, l'Apollon in fase offensiva non è che ha costruito chissà che cosa. E una difesa che ha mostrato i suoi limiti, soprattutto quando deve difendere correndo all'indietro. Cioè l'Apollon ha fatto quella classica partita da squadra un po' dietro la palla e poi ripartiamo, l'Atalanta sempre in contropiede mostra delle grandi difficoltà quando non è lei a difendere. Cioè quando l'Atalanta avanza per andare subito a recuperare un pallone, fa un ottimo lavoro. Quando invece deve arretrare in corsa e tentare di vedere l'azione che si sta svolgendo, è facile, si perdono gli uomini, di fatto poi il gol. È una cosa del genere più o meno. Cosa dire poi sulle prestazioni dei singoli? Male Ilicic? Non tanto per quello che ha dimostrato, ma quanto per quello che avrebbe dovuto dimostrare. Cioè non c'è un giocatore che oggettivamente nell'Atalanta ha giocato male, però tenendo conto dell'avversario, tenendo conto dell'importanza della partita e tenendo conto poi delle potenzialità che avevano i nostri giocatori, effettivamente Ilici ci ha fatto una partita al di sotto delle aspettative. Doveva un po' essere il prendere lo scettro di Papu Gomez, in verità non ha fatto molto, anzi è stato poi sostituito abbastanza presto da Orsolini, che più lo vedo in campo, più capisco perché Gasparini è veramente restito a metterlo dentro, perché è veramente un giocatore che gioca da solo e sono proprio quelle cose che Gasparini non vuole vedere. Per il resto, per dire, gran lavoro ancora di sostegno e di petagna, che tra l'altro si va a inamicare praticamente nella squadra dell'Apollon, ma, ripeto, il dato oggettivo è che una squadra come l'Apollon, che non fa niente per pretendere, è una squadra che veramente, grosso modo potremmo dire, ha tirato a campare per gran parte della partita, non si è riusciti a chiudere per l'ennesima volta la partita. Una partita che davvero andava chiusa subito, perché con la nostra fluidità tipica, questa squadra non avrebbe avuto possibilità di scampo. In verità, poi noi ci siamo abbassati, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo, ci siamo completamente abbassati, sembrava stessimo subendo l'arrembaggio del secolo, quando questi avevano difficoltà a portare il pallone. Cioè, quando tu incominci ad aspettare una squadra del genere all'altezza della tua area di rigore, vuol dire che hai un problema, sia di posizionamento, ma anche di testa, perché te la stai facendo sotto, senza alcuna ragione. Quindi, io personalmente penso che il pareggio sia giusto, perché comunque le partite vanno chiuse, è una cosa che ormai ci siamo detti e ridetti, ma a quanto pare non riusciamo a inquadrarla. Certo, non è compromesso niente, parliamoci chiaro, la qualificazione è ancora lì, è ancora abbastanza probabile, quindi, insomma, non è compromesso nulla. Però, è un peccato, perché il cinismo ha un certo livello di calcio e di competizioni, è fondamentale, l'Atalanta sta dimostrando assolutamente di non averlo. Ispiegabile il centrocampo, che nonostante l'ottima partita, perché poi a giocare ha giocato in maniera ottima, il centrocampo ha incominciato ad abbassarsi, a difendere, a non portare più palloni, cioè i palloni non passavano più in mezzo, perché loro non c'erano. Spinazzola, un altro giocatore che, anche oggi, ottimo lavoro di presenza sulla fascia, ma poi concretamente, contro una squadra che dovresti partire, farla da sola tutta la fascia, non l'hai fatto. Cosa che, invece, Ateborg, che giorno dopo giorno sta diventando, secondo me, sempre più fondamentale, ha fatto in maniera egregia. Che dire, c'è la malezza, però non dobbiamo scoraggiarci. Vediamo di giocare meglio le prossime partite, di portare a casa quei punticini che ormai ci servono per la qualificazione, magari un bel biscotto. Nella partita con l'Iona potrebbe essere l'occasione giusta. Testa poi anche al campionato, l'Atalanta deve imparare a diventare cenica e spietata come le grandi squadre. Ha tutte le possibilità per farlo. Noi continuiamo a sostenerla. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!